Giovedì 16 giugno 2016 siamo a Perugia, più di 150 tra architetti, ingegneri, progettisti e periti industriali hanno partecipato al convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Il futuro dell'edilizia, questo è il titolo del convegno di oggi. Progettare e riqualificare l'edificio impianto in chiave sostenibile. Questa è la tematica principale del convegno, molti gli interventi scientifici, molte anche le aziende presenti che hanno avuto modo di presentarsi e presentare i propri prodotti. Noi abbiamo presentato alcune novità ma prima di tutto quella che è la nostra filosofia che ci accompagna da oltre 25 anni di evoluzione da una semplice sostituzione di una porta tradizionale a soluzioni architettonicamente molto più evolute e quindi dedicate espressalmente al mondo dell'architettura. Noi ci teniamo da sempre ad investire sull'architetto perché è il primo promotore del nostro prodotto e devo essere sincero anche questa tappa di infoprogetto evidenza degli ottimi risultati.